Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Questa è la prima estate, che trascorriamo consapevoli della rottura avvenuta tra l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice, televisiva Ilari Blasi. I due hanno deciso di godersi l'estate, nonostante i paparazzi stiano loro sempre alle calcagna. In particolare, Ilari Blasi è stata avvistata in Croazia, in compagnia della piccola figlia Isabel. La conduttrice starebbe trascorrendo delle giornate di sano relax, lontana dal pensiero del divorzio. E poi c'è Francesco Totti, che invece è rimasto a Roma per assistere agli allenamenti sportivi del figlio Christian, per stare anche con Chanel, ma anche con un'altra donna. Stiamo parlando, naturalmente, di quella che si presuppone sia la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate in queste ultime ore, Francesco Totti e Ilari Blasi avrebbero interrotto le procedure di separazione. Le fonti sostengono che, in particolare, sarebbe stato il pupone a volersi prendere una pausa dal divorzio. Probabilmente per potersi godere l'estate senza pensare a procedure burocratiche. E poi anche perché la maggior parte degli studi professionali, che si occupano delle documentazioni e delle procedure, al momento sono in ferie. E agosto e tutti vogliono rilassarsi per poi ripartire al massimo a settembre. I fan, però, sono felicissimi e credono che ci sia ancora una speranza di riconciliazione per Totti e Ilari.